E io stasera invece vorrei aggiungere a questi applausi per tutti i nostri collaboratori, per le persone che sono state importanti per tutto il nostro viaggio, altre persone che sono tantissime, che magari un pochino ce le siamo persi per la strada, stasera qualcuno ci è venuto a trovare e sono stati... No, aspettate, sono stati veramente dei compagni straordinari, senza di loro veramente non saremmo andati lontano, io li voglio ringraziare, chi stasera è qui, sa perfettamente di chi sto parlando, grazie, 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 grazie. Grazie! Grazie!